Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio dove le cani alla zucchero sono cresciute allora mi sono portato avanti ho fatto tutta la pista mi sono avanzate altre track ho cotto tutta la roba che c'era da cuocere di ferro e roba varia mi sono portato avanti oggi voglio fare una cosa carina ragazzi veramente una cosa carina che non ho mai fatto però ci servirà un bel po di roba allora andiamo a vedere cosa ci serve ci servirà ci servirà ci servirà lo sto cercando ci servirà facciamo una cosa con la railcraft allora ci servirà prima di tutto l'advanced item unloader poi vi spiego tutta cosa serve che si crafta in questo modo allora una ender pearl un item unloader che si crafta in questo modo un casino allora un dispenser iniziamo a fare il dispenser andiamo a prendere vabbè io crafto tutto ragazzi io so bene o male come si crafta lo vedete anche voi crafto tutto e arrivo dopo un po che giravo ragazzi ho trovato un ender un ender un enderman speriamo mi dia l'ender pearl perché mi serve ecco come non detto niente di che ne cerco un altro speriamo di troverla e chi te lo chi ragazzi c'è l'ender pearl ci ho trovato il coso della magia e uno di questi strani deficienti ok insomma che perdo l'ender pearl sono vicino casa non sono lontanissimo no no eccolo qui dai babbo lascia quella cosa che rubato niente ender pearl ma dai ma che sfigola che sfigola comunque qua devo segnarmi il coso della magia magia poi ci verremo per chi non sa chi cos'è poi lo spiegherò magari nel prossimo episodio vedremo mi serve un altro ender un altro enderman dai porca trota porca trota ok ne ho trovato un altro speren ben sto anche morendo di fame porca trota ok e chi te la chi l'ender pearl l'ender pearl va a farti fottere ho finito anche il cibo niente corriamo a casa abbiamo anche la nostra ender pearl possiamo fare anche la porta del gun volendo ci sono i ciccioni vicino a casa mia madonna mi stavano vedendo bene andiamo a casa ole meno male meno male meno mele meno mele più pere banane cicorie allora facciamoli in in ok facciamoli insegnare questa qui andiamo a prendere un bel pezzo di oro magari anche due anche due dove sono qua vendiamo l'oro e prendiamo l'ender pearl guarda bene allora io intanto fatto questo qui ci servirà allora facciamo facciamo un di a fare il no il cart dispenser di fare questo chi allora una di queste ok una per sul play io ho già cotto questi qui allora un ender pearl ok allora ender pearl mettiamo la redstone così e mi servono quattro sti lingot che io dovrei avere perché l'avevo trovati se non mi sbaglio in un dungeon non mi ricordo dove ecco i tele key qui ho sistemato per fare lo smistamento chest me ne servono quattro questi qua non so se li impara per chi non sa come si craftano ragazzi si mettono un altro forno l'altro forno gigante di cui avevo parlato comunque non dovrebbe impararlo infatti e dovrei fare anche quel forno tankete e abbiamo l'advance edit bene ora mi serve mi servono altri track track me ne servono ben due di questi qua con la freccia che si fanno allora è un bel casino è un bel casino andiamo a prendere il ferro e oro ferro e oro ferro e oro allora prendiamo del ferro e dell'oro crede se non dovremmo averla allora andiamo qui e facciamo le barrette di ferro tankete le barrette d'oro che non si fanno così porca trotta come si fanno facciamo fare così le barrette ah che pirla che pirla allora tre barre così tre di redstone oh allora e quelle d'oro ok facciamo queste qua voilà poi serviva redstone pressur play e un altro di questi chi che io dovrei già avere da qualche parte sì allora abbiamo detto uno così facciamone due tanto servono sempre allora 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 facciamo due per sub play questi qua redstone due di questi e questi qua e vengono a otto ne vengono voglia a voglia perfetto facciamo un pulsante e voilà poi mi serviranno anche queste qui sempre così e così per cui ne facciamo altre ne facciamo altre allora tre così tre così e tre così pirletta così ok abbiamo quasi finito allora abbiamo detto così poi uno di questo è una redstone no come cavolo era giusto ma sono scemo ragazzi sono scemo cioè non l'avevo visto vabbè ok ora andiamo lì e facciamo una bella cosa qui ne mettiamo una qua anche te però ci serviranno anche delle redstone torch redstone torch non ho più redstone non ho permesso non ho più redstone e poi ce l'avevo e poi ce l'avevo e ok le ho messe tutte ora andiamo qui e facciamo così gli mettiamo quello lì con la freccia anche te spacchiamo qui voilà ci mettiamo il nostro bel pulsante in modo che voilà ok saliamo su ok una volta che siamo saliti su ragazzi intanto facciamo una cosa veloce allora portal portal gun facciamo la portal gun così siamo più sicuri quindi un diamante due ossidiane ferro e quello andiamo a prendere un diamante che dovrebbe essere l'ultimo che abbiamo però non c'è nessun problema perché abbiamo la il town tungston tungston allora il tungston vale 16.000 voilà e prendiamo diamanti ole allora dicevamo ah l'ossidiana ossidiana ne servono due ma ne prendiamo altra ne prendiamo altra ok bene allora ossidiana diamante ender pearl e ferro voilà portal gun ecco la r si chiude tutto bene andiamo qui ah no scusatemi una cosa importante mi serve una cesta una cesta non mi basta la legna te pareva cosa che sta dicendo quello scemo una cesta voilà e va bene così ora 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 mi servono i track noi facciamo che lo vogliamo qua ole qua ci mettiamo questo qui no girato al contrario scusate facciamo così e così voilà qui ci mettiamo facciamo una cosa così ci mettiamo il nostro advanced ole e lì la cesta ole questo qua come funziona ragazzi lasciamo tutto così com'è la percentuale lasciamo tutto così com'è e vi faccio vedere come funziona allora saliamo su un attimo facciamo facciamo un minecart voilà facciamo un'altra cesta facciamo un'altra cesta magari facciamo imparare la legna un attimo ok vendiamo un ferro e prendiamo della legna una cesta cesta e minecart facciamo il minecart con la cesta voilà ora come funziona ragazzi se io vado giù facciamo un esempio noi andiamo in caverna a scavare adesso andiamo giù in caverna facciamo finta di andare a scavare abbiamo l'inventario pieno giusto abbiamo l'inventario pieno questo lo lasciamo qui voilà allora poniamo il caso noi abbiamo l'inventario pieno possiamo scavare di qua di là torniamo qui mettiamo la roba nell'inventario così e mandiamo su il minecart tankete ne servono altri non ho redstone porca trota porca trota allora allora lo mettiamo qua vediamo un po' se basta mettiamo questo qui voilà lo mandiamo su vediamo se ci va e non ci arriva porca trota ne servono molti di più vabbè vado a prendere la redstone facciamo le torce ole porca trota dai pirletta solo che ne abbiamo solo tre ora vediamo come fare eh allora intanto ho fatto la portal gun facciamo così scendiamo ok ne mettiamo altre andiamo un po' dove metterla magari una la mettiamo qua dovrebbe bastare mettiamo una qui e ok ragazzi speriamo che basta cioè non so che fare porca trota proviamo riproviamo riproviamo allora abbiamo la roba dentro mandiamo sul minecart speriamo che sale porca trota ma come ma non ci credo porca trota non ci credo per uno per uno ma si può avere così sfiga dico mi dico mi dico mi porca trota lurida loggia allora lo mettiamo qua ma porca di quella civetta ladra riproviamo voilà e non ci arriva ma che sfiga 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 sto pensando un'altra cosa che si potrebbe fare con la porta al gun si però faremo più avanti con la porta al gun niente ragazzi craft oltre di questi ok due di questi porca trota intanto ho trasmutato della redstone ho preso l'ho scambiata con il carbone allora così redstone e questi qua giusto giusto perfetto facciamo altre redstone torch sto sclerando un attimino ragazzi state tranquilli e andiamole a mettere lì ok e l'ultimo lo mettiamo magari qua giusto che dà la spinta va per il momento va bene allora riproviamo c'è la roba dentro il minecart parte speriamo che arrivi su e non ci arriva no ma io adesso mi incaiso io adesso mi incaiso no ragazzi ce l'hanno con me ma che sfiga ma come non ci arriva mettiamo un altro qui ma porca trota ma come non ci arriva no no è impossibile vai dimmi che arriva 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 non è arrivato non è arrivato niente ne caffto altri ragazzi che devo fare prendiamo della redstone la redstone facciamo delle torce e andiamo e l'ultimo lo mettiamo qua vediamo un po' adesso adesso mi incazzo ragazzi è qua che c'è tanta distanza vabbè vediamo parte e dimmi che arriva perché adesso mi incazzo ora dovrebbe arrivare allora il minecart in teoria dovrebbe arrivare su andare su e scaricare tutto ciò che ha ci mette un po' a scaricare dipende quanta roba c'è dentro e poi dovrebbe riscendere vuoto oh vediamo un po' se arriva sta arrivando guardate voilà ed è vuoto se noi andiamo lì in teoria dovrebbe essere nella chest ecchieteli chi e ritorna giù ritorna giù da noi se io lo riempio di più logicamente ci sta molto di più sopra vediamo un po' eh vi faccio vedere come scarica adesso lo mandiamo su e andiamo su lui arriva o almeno dovrebbe arrivare ecchietelo lì guardate arriva lì si mette a scaricare guardate sta scaricando tutto automaticamente nella chest quando ha finito torna giù ed è già ancora nostro a nostra disposizione spero vi sia piaciuto l'impiantino ragazzi poi magari lo faremo un po' meglio con direttamente la porta gun qua sarebbe meglio metterci una ender chest che ci porta tutto alla chest principale dello smistamento e che dire ragazzi che dire che dire a me piace molto come impiantino è molto comodo quando andiamo in caverna eccetera e sicuramente vi ho insegnato qualcosa di nuovo bene anche per oggi è tutto e vi dico la solita frase che bellico ora si che le sei ragion da Luke è tutto ciao a tutti